Sono Claudia Matini, formatrice e psicologa. In questo video condivido con te una delle tecniche di apprendimento cooperativo che personalmente trovo più utili e di cui parleremo nel corso online Progettare lezioni in Cooperative Learning. La tecnica di cui desidero parlarti si chiama Apprendere appunti in coppia. Presenta quattro principali vantaggi che la rendono gradita sia all'insegnante già esperto di metodologie attive sia a chi desidera cominciare a sperimentare una modalità di interazione in classe più strutturata e collaborativa. Il primo principale vantaggio è la sua facilità d'uso. Consiste nel chiedere agli studenti, suddivisi in coppie, di ascoltare con attenzione la spiegazione del docente prendendo appunti in modo accurato. Nulla di diverso dal solito per ora. La novità sta nel chiedere agli studenti di tanto in tanto di fermarsi, confrontarsi col compagno, rivedere quello che è stato scritto, spiegarselo vicendevolmente, integrandolo magari con eventuali elementi persi in fase di ascolto del docente. La tecnica è facile da organizzare e facile da controllare. Anche per gli studenti risulta semplice da sperimentare. Il secondo vantaggio è nel non richiedere una progettazione dettagliata. Occorre solo preparare la spiegazione in modo da fare delle pause strategiche. Di tanto in tanto. Quelle pause consentiranno agli studenti di non dovere confrontare gli appunti di una lunga spiegazione, facilitando il loro lavoro di revisione e di rielaborazione delle note, permettendo anche di cogliere fin da subito eventuali dubbi o fraintendimenti da chiarire. Il terzo vantaggio sta nel avere un modo di tenere gli studenti coinvolti durante la lezione. Doversi confrontare con il compagno comunque responsabilizza. Il quarto vantaggio è avere un prodotto finale che gli studenti portano a casa, le note, che costituiscono poi la base della revisione dello studio a casa, facilitando quindi l'apprendimento. Non tutte le tecniche cooperative sono così facili e immediate da usare, ma nel corso online Progettare lezioni in Cooperative Learning ho fatto una selezione per favorire una immediata applicazione delle tecniche alla pratica in classe. Non c'è modo migliore di imparare di una pratica riflessiva. Sperimentiamo e poi riflettiamo su come è andata e questo faremo insieme. Ti aspetto!